Con l'innesto di Mirko Antonucci il Pescara completa il mosaico dell'attacco, colmate le lacune in termini numerici che erano evidenti nel corso della prima settimana. Con l'arrivo del nuovo centravanti Gaetano Monachello, dell'extrapani Marras di Antonucci della Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e con il rinnovo del prestito di Cristian Capone da parte dell'Atalanta, il giocatore si aggregerà al gruppo al pari del centrocampista Meleconi alla fine dell'Europeo Under-19, l'attacco è fatto. Sono tre i centravanti, Monachello, Bunino e Cocco, cinque gli esterni, Marras, Mancuso, Yamga, Capone e Antonucci. Non farà parte di questo reparto Gennaro Tutino, alla fine sul giocatore ex Cosenza ma di proprietà del Napoli a spuntarla è stato il Carpi, così come nulla da fare per Cristian Galano. Il Robben delle Puglie, già obiettivo del Delfino negli anni passati, rappresentava un'occasione last minute dopo l'esclusione dalla cadetteria del Bari, ma sul funambolico esterno si è fiondato il Parma che ha sbaragliato la concorrenza. Probabile che un altro movimento in entrata verrà fatto in caso di uscite, anche se il Delfino continua ad essere piuttosto vigile sul giovane centravanti Gianluca Scamacca del Sassuolo, anche gli impegnato nell'Europeo Under-19. I potenziali giocatori in uscita sono Cocco e Yamga, ma ad oggi si va avanti con loro, anche se il mercato chiude tra un mese ed i scenari possono sempre cambiare. I fronti principali sotto questo profilo restano Francesco Zampano e Gaston Bruckman, ma su di loro il presidente Sebastiani è stato chiaro, andranno via solo in caso di offerte importanti, con la necessità poi di essere adeguatamente sostituiti. Chi è destinato a lasciare il Pescara è Frank Canutè. Il centrocampista senegalese di proprietà del Delfino aveva militato fino a Gendaio con i Biancazzurri. Poi il prestito all'Ascoli. Non ha preso parte al Raduno, in via ufficiale perché impermesso, a Torino, per delle visite specialistiche. Il giocatore non è mai tornato e non è stato neanche inserito nella lista di convocati per Palena. Proprio questo addio ha bloccato la cessione di proietti che sembrava vicino al Vicenza. I prossimi giorni saranno poi utili per trovare sistemazione ad elementi che sono in ritiro, ma non rientrano nei pieni tecnici. Ransford Selasi e Luca Forte. Cristian Mentola ha tanto mercato in Serie C. Ieri il presidente Sebastiani ha incontrato il Fano per fissare altri punti di questa nuova collaborazione. Il difensore Alessandro Celli, inizialmente destinato al Teramo, approderà proprio nelle Marche, alla corte di Massimo Epifani. Con lui andranno anche l'esterno della Primavera, Fabio Morselli, e il centrocampista ex Ternana, Simone Tascone, che il Pescara preleverà dal Genoa per poi darlo in prestito al Fano.